La scomparsa di Luigi Luccherini ha colpito l'intera città e i messaggi di condoglianze sono stati trasversali e sono arrivati a centinaia. Dal presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che ne ha ricordato l'impegno e la passione nel suo ruolo di sindaco, al coordinamento provinciale di Forza Italia, che ne ha sottolineato la svolta positiva ed importante data alla città di Arezzo, al PD, alla Lega. Rossella Angiolini, per sette anni assessore al sociale nella sua giunta, ricorda l'input di Luccherini a garantire molte risorse di bilancio che permisero di fornire servizi a famiglie, anziani, disabili bisognosi, prima i più deboli e i più bisognosi, poi gli altri, le diceva. Giuseppe Fanfani, che fu sindaco, dopo di lui ha scritto Arezzo perde un altro rappresentante di quella generazione che contribuì per molti anni con le sue opere alla sua crescita. Il Gigi, scrive Gianfrancesco Gamurrini, anche lui in giunta, era uno di noi, una persona che stava bene con tutti e ti alletava con racconti e tanta esperienza. Al cuore è spezzato Francesco Macri, per il quale Luccherini ha avuto una visione di Arezzo nel futuro, costituendo uno spartiacque nella storia di Arezzo. Un rispettoso saluto anche da Monica Bettoni, competitor diretta e sconfitta da un Luccherini bis inarrestabile. Per Gianni Cantaloni, non muore solo un grande sindaco, ma una persona con la quale ho instaurato un rapporto di collaborazione e simpatia affettiva. Gli devo tutto, per me è una grande perdita, ci ha detto tra le lacrime. Con Gigi se ne va un pezzo importante della storia di Arezzo. Anche Mauro Valenti, patron di Arezzo Wave, ha voluto esprimere il suo cordoglio. Fu Luccherini infatti a portare Arezzo nella fondazione Arezzo Wave. E ancora il sindaco Ghinelli, sono stato suo assessore che lo ha accompagnato per tutta la sua esperienza amministrativa dal 1999 al 2006. Lascia un grande vuoto e per me un grande dolore. Anche un grande avversario come Alfio Nicotra, che durante i sette anni da sindaco di Luccherini gli fece fiera opposizione, ne ricorda la forza politica, capace di imporsi in modo trasversale, unendo le varie anime del centrodestra. Dei tanti ricordi, il momento più bello fu quando invitò i capigruppo a ricevere nel suo studio Alberto Sordi. Un momento bellissimo, lontano dalla lotta politica, immersi nella nostra storia.